Ricamiamo giocando un'iniziativa che ha coinvolto i ragazzi del Plesso Sciascia di Caltanissetta, un'iniziativa che ha riscosso un certo successo? Sicuramente perché è una cosa che si aggancia un po' alle nostre tradizioni e vuole in qualche modo valorizzare quest'arte del ricamo, dell'uncinetto che si vanno perdendo sempre di più. La cosa più carina che abbiamo notato nello svolgimento di questo progetto è stata la commistione tra il vecchio e il nuovo perché i bambini erano vestiti con abiti sportivi, avevano vicino lo smartphone però nello stesso tempo utilizzavano il gomitolo di lana e l'uncinetto per realizzare questi lavori che hanno trovato un grande riscontro. Quindi di questo noi rendiamo grazie al Comune che ci ha dato l'opportunità di poter realizzare il progetto con tutte le sue caratteristiche e con tutti i suoi risvolti. È stata una riscoperta delle tradizioni locali? Sì, quando noi abbiamo scelto di selezionare questo tra gli altri progetti sponsorizzati dal Comune per le scuole primarie abbiamo pensato a questo bel connubio tra artigianato e quindi un'esperienza che ci viene dalla tradizione e contemporaneamente la creatività legata alla fantasia dei bambini tant'è che voi vedrete oggi realizzati dei quadri, delle proprie opere d'arte che però hanno come materiale appunto la lana e come strumento l'uncinetto. Molti di questi bambini non avevano attraverso esperienze familiari mai utilizzato questi strumenti che un tempo erano abbastanza usuali per tutte e quante, soprattutto le femminucce. E anche la presenza oggi di tutte e quante le famiglie fa capire come in fondo ciò che a noi sembra lontano nel tempo riesce poi a diventare qualcosa di nuovo perché per i bambini in realtà è un'esperienza totalmente inedita. Ecco, ciò che era tradizionale e magari scontato per noi di una certa generazione oggi risulta essere invece un momento di aggregazione fatta con strumenti che riescono ad essere persino più simpatici e interessanti per i bambini rispetto a quanto non sia il normale gioco sullo smartphone. Quanti ragazzi sono stati coinvolti? Circa una ventina. Sono ragazzi di tutte quante le classi, quindi ogni età ha avuto la possibilità di esprimersi attraverso dei prodotti particolari che ogni bambino ha voluto e ha potuto realizzare. Il lavoro si è svolto veramente con grande gioia, con grande serenità anche perché credo che la persona che ha seguito questi bambini fosse animata veramente da una grande voglia, da una grande passione di comunicare questo modo, di creare, di fare le cose appunto agganciato al passato ma presente perché piace, continua a piacere, i bambini sono stati tutti molto contenti di realizzare i loro prodotti, se li sono guardati durante la mostra sono stati felici di mostrarli agli altri e noi devo dire li abbiamo apprezzati moltissimo.